benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video come vedete un video sul disegno sto registrando quando faccio i video disegno come ormai sapete con il huawei p8 lite che avevo che il telefono cavo prima e andremo a disegnare la leonessa col cappello di natale va beh e mi è piaciuta molto come immagini e poi sapete o animalista mi piacciono gli animali eccetera e quindi andremo a ricreare questa leonessa qua e niente con questo io vi lascio al tutorial del disegno ci vediamo a fine iscriviti al canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti